I carabinieri del nucleo radiomobile sono intervenuti oggi sabato 9 marzo in via Ruffi 7 a Torino per una lite scoppiata tra conviventi italiani. Al culmine della lite l'uomo 58 anni ha colpito la donna con diverse coltellate. A lanciarle l'alarme sono stati alcuni condomini che hanno sentito le urla. Sul posto sono intervenuti i carabinieri 118. La donna anch'essa sulla cinquantina è stata subito soccorsa e portata all'ospedale San Giovanni Bosco. Nonostante il gran numero di coltellate ricevute era cosciente. Il marito è ora in stato di fermo. Secondo i vicini la coppia litigava spesso. Indagini sono in corso. 5 Grazie a tutti.